Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a tutti, visto che stasera abbiamo una bella presenza rispetto a una delle vicende sicuramente più preoccupanti che oggi tutte le amministrazioni pubbliche affrontano quotidianamente. Io rispetto a questo tema intanto voglio ringraziare veramente le nostre strutture, le nostre strutture che per quello che fanno quotidianamente non so qual tema del sociale in generale, i numeri che hanno descritti, i vogazzi, l'assessore e spesso queste sono vicende che sfuggono un po' i nostri cittadini, questi sono settori un po' relegati, relegati rispetto ai grandi temi, alle grandi discussioni che facciamo quotidianamente con i nostri concittadini, relegati alle scuole, alle problematiche, all'asfalto e a tutte le vicende. Questa è una delle questioni che ci impegna di più sotto tutti i punti di vista e sono questioni che secondo me qualificano anche un'amministrazione, perché un'amministrazione secondo me si qualifica soprattutto quando è in grado, quando ha la volontà di affrontare queste vicende che, ripeto, sfuggono ai nostri concittadini. Quindi siamo tutti i giorni impegnati su questo fronte quotidianamente, i nostri servizi sociali, i nostri dirigenti, i nostri assessori e sappiamo quanto lavoro c'è dietro, soprattutto quello che abbiamo fatto in questi ultimi tempi mettendo in piedi tutta una serie di azioni di contrasto rispetto a questo problema. Con la normativa del 2003 c'è stato fatto un grande passo avanti, diciamo che oggi le nostre amministrazioni locali hanno anche una normativa a carattere nazionale che ci permette di essere più profondi, soprattutto le forze dell'ordine, nel contrasto di queste vicende. Oggi ascoltavo il telegiornale a Milano, è stato fatto un programma, una convenzione proprio per permettere alle forze dell'ordine di agire anche in assenza delle denunce, delle denunce che spesso i polizieri, questa è una delle questioni che manca all'alberto, perché poi le nostre forze dell'ordine per agire hanno bisogno di una denunce. Quindi questo è uno dei grandi ostacoli che c'è nel trattare queste vicende. E quindi questa è una bella iniziativa che ci fa piacere il terzo anno che abbiamo messo in piedi ed è un momento anche per confrontarci, per allargare sicuramente i nostri orizzonti, e soprattutto per capire se rispetto a quello che stiamo facendo possiamo fare qualcos'altro, possiamo aggiungere qualcos'altro, perché è un tema molto molto difficile da trattare, perché tocca le famiglie, tocca le scuole, tocca il panorama più ampio e più profondo della nostra società. E quindi ben venga, non solo ricordare, ma aggiungere qualcosa che ci permetterà da domani, da subito, affrontare queste vicende in maniera più compiuta. E sono vicende che incidono, incidono direttamente sicuramente nei confronti di chi, che chiaramente le subisce nelle famiglie, ma incidono anche a livello sociale, all'interno di un'amministrazione, perché ci portano via risorse umane in maniera cospigua e soprattutto sono vicende che incidono sui bilanci, i bilanci di un'amministrazione. E questo è una corsa sempre, non ho appicciato dal nostro dirigente, è una rincorsa tutti gli anni a consultivo di quello che è successo. Noi capiamo alla fine dell'anno quello che è successo durante l'anno, perché chiudiamo, chiudiamo e facciamo i resoconti dei pagamenti. E queste vicende poi sono gestite dalle nostre aziende che in prima persona operano, sono gestite da strutture, da strutture esterne, quindi che hanno dei costi notevoli. E questo non è un bene, soprattutto perché i numeri tendono a scendere, ma il risultato ancora non c'è, perché forse non siamo stati, non siamo così profondi nel partire dal basso, nel senso, nell'intervenire prima ancora che queste vicende succedano, e possano succedere all'interno delle nostre famiglie, e delle nostre famiglie, delle nostre realtà. Grazie.